Ciao a tutti, oggi parliamo della sindrome di Cushing nel cane. Prima di iniziare questa patologia vi ricordo che se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi al canale. Qui parliamo fondamentalmente di patologie del cane e del gatto. All'interno delle patologie cerco di spiegarvi chiaramente i segni, sintomi e la diagnosi, ma soprattutto cerco anche di darvi qualche consiglio, qualche curiosità per la gestione dei vostri animali e soprattutto magari vi incuriosisco e magari guardando il vostro cane riconoscete magari qualche segno di una di queste patologie. E portate chiaramente il vostro animale dal vostro medico veterinario per verificare che non abbia questo tipo di problema. E vi ricordo sempre che se volete supportare questo canale mettete un bel mi piace sotto al video e se avete curiosità sia inerente all'argomento di questo video o ad altri argomenti sempre in relazione al cane e al gatto lasciatelo nei commenti qua sotto e sarò ben felice di realizzare un video per rispondere al vostro commento. Partiamo subito con questa patologia che può sembrare difficilissima da spiegare ma cercherò di spiegarvela in termini semplici e facili in modo che sia comprensibile per tutti anche per chi chiaramente non è avvezzo a termini medici e quindi questa patologia può sembrare qualcosa di talmente difficile da comprendere perché magari non ha mai sentito questa parola, sindrome di Cushing. Allora, la sindrome di Cushing è praticamente una patologia ormonale, è iperadrenocorticismo cominciamo già con questo bel parolone che non è nient'altro che un'iperproduzione di cortisolo quindi l'ormone che gioca su questa patologia ormonale è il cortisolo cortisolo che viene prodotto normalmente dalle ghiandole surrenali sui reni sono due ghiandole che stanno vicine ai reni in addome queste ghiandole producono diverse sostanze tra cui il cortisolo in questo video ci soffermiamo solo sul cortisolo altrimenti andiamo a complicare un po' tutto il cortisolo viene prodotto da queste ghiandole ma la regolazione del cortisolo avviene a livello del sistema nervoso centrale da parte di un'area del sistema nervoso centrale chiamata ipofisi che è un po' diciamo la regia dell'apparato endocrino del corpo umano e del corpo animale tra cui va a regolare anche la tiroide per esempio e fondamentalmente produce l'ipofisi un ormone che si chiama ACTH che fondamentalmente dice alle surrenali producete cortisolo quando il cortisolo è alto questo ha un feedback negativo sull'ipofisi e quindi dice non produrre ACTH questa è una normalità quindi cortisolo alto non si produce ACTH cortisolo basso si produce ACTH il cortisolo rispetto per esempio all'ormone tiroideo se non sapete nulla di tiroide vi consiglio questo video che vi apparirà in alto a differenza della tiroide dove l'ormone è durante la giornata abbastanza stabile diciamo per capirci il cortisolo invece ha delle fluttuazioni durante la giornata e anche durante le situazioni è chiamato l'ormone dello stress perché in corso di stress aumenta e quindi fondamentalmente è un po' più complessa la situazione però cerco un attimo di spiegarvi quindi abbiamo detto che questa patologia è un'iperproduzione di cortisolo quindi chi sono i due responsabili che possono dare questo tipo di patologia saranno l'ipofisi da una parte o le surrenali dall'altra esiste una terza ipotesi che siamo noi quando somministriamo cortisone se non lo somministriamo in maniera corretta possiamo creare un iperadrenocorticismo iatrogeno se invece la causa di questa iperproduzione di cortisolo è l'ipofisi si chiamerà iperadrenocorticismo ipofisario se sono invece le surreni sarà iperadrenocorticismo surrenalico generalmente mettiamo in parte l'iperadrenocorticismo iatrogeno cioè quello causato da noi quando diamo il cortisone a caso soffermiamoci sull'ipofisi e il surrene che cosa di solito manda in crisi tutto il sistema di solito sono dei tumori fondamentalmente o un tumore ipofisario o un tumore surrenalico allora cerco di spiegarvi bene in caso noi abbiamo il tumore ipofisario noi avremo un piccolo tumorino inizialmente che produrrà ACTH indipendentemente dal livello di cortisolo nel sangue e quindi le surrenali continueranno a produrre cortisolo e aumenteranno entrambe se invece il tumore l'abbiamo a livello surrenalico di solito colpisce una ghiandola quindi avremo una ghiandola più piccola e una ghiandola più grossa inoltre cosa avremo anche di differente rispetto all'ipofisario che il cortisolo aumentato farà sì che l'ipofisi sarà non tenuta a produrre più ACTH quindi l'ACTH sarà più basso rispetto al liperadrenocorticismo ipofisario questa diciamo è la fisiologia la fisiopatologia ora addentriamoci cosa succede nel nostro cane quali sono i segni e sintomi di iperadrenocorticismo nel cane allora di solito sono cani che il proprietario ci riferisce bere tanto, polidipsia urinare tanto, poliuria mangiare tanto, polifagia sono tre segni e sintomi che fondamentalmente possiamo ritrovare anche in un'altra patologia metabolica che è il diabete mellito altre caratteristiche che ha questo iperadrenocorticismo che possiamo trovare nel nostro cane è fondamentalmente quello di solito troviamo dei problemi cutanei di solito ha una alopecia endocrina non pruriginosa la cute di solito è sottile è più scura di solito può rompersi facilmente predispone ovviamente infezioni secondarie batteriche c'è la presenza a volte di comedoni c'è la presenza a volte della calcinosi scutanea e di solito il pelo è rarefatto quindi abbiamo aree in cui vedi che il pelo non è bello folto e questa è una caratteristica del cushing altra caratteristica che chiaramente è molto evidente è il classico addome a botte quindi se avete un cane che vedete che ha l'addome a botte medico veterinario immediatamente prendete una visita per verificare perché il vostro cane ha questa forma in modo tale da capire perché non esiste ovviamente solo la sindrome di cushing un'altra caratteristica fondamentalmente che può darci l'aumento del cortisolo è su ovviamente tutto il discorso riproduttivo di solito abbiamo anestro prolungato atrofia testicolare possiamo avere fondamentalmente di solito anche mancanza di libido possiamo avere dei problemi neuromuscolari possiamo avere dei problemi neurologici possiamo avere una serie di problematiche però diciamo che di solito le prime avvisaglie della sindrome di cushing sono la poliuria, polidipsia, polifagia problemi cutanei però fondamentalmente può anche essere che se arriva un cane con delle problematiche per esempio neurologiche e alla visita poi si riscontrano anche tutta questa serie di problematiche aiuta chiaramente nella diagnosi la diagnosi come si effettua? allora inizialmente si esegue un esame del sangue l'esame del sangue di solito nella sindrome di cushing abbiamo una leucitosi neutrofilica però ci dice poco di solito abbiamo la fosfatasi alcalina elevatissima molto elevata anche l'alt la transaminasi epatica è elevata possiamo avere una iperlipemia un aumento dei trigliceridi e del colesterolo interessante anche l'esame delle urine che dovrebbe darci un peso specifico molto basso sotto sicuramente i 1020 ma anche sui 1010-1012 queste diciamo sono caratteristiche chiaramente della sindrome di cushing non basta ovviamente questo per diagnosticare il cushing alcuni di voi potranno fare questa domanda ma non basta vedere il cortisolo se è più alto o più elevato no perché come vi ho spiegato prima è ciclico e si modifica in base allo stress quindi in un cane molto stressato potrebbe aumentare il cortisolo ma non avere la sindrome di cushing generalmente per diagnosticare la sindrome di cushing si effettuano sia un'ecografia addominale dove si va a verificare le dimensioni delle ghiandole surrenali per vedere se sono aumentate di volume e addirittura in quel caso lì si potrebbe anche vedere se una è aumentata rispetto all'altra e già darci la sede quindi probabile un iperadrenocorticismo surrenalico l'altro esame invece che si fanno sono degli esami del sangue e anche delle urine che sono più specifici per esempio il rapporto cortisolo-creatinina nelle urine oppure il test con la CTH di stimolazione con la CTH il test a basse dosi di esametazone e il test a alte dosi di esametazone questi sono esami del sangue che chiaramente in questo video non andrò specifica a spiegarvi in cosa consistono magari farò un video apposito su questi test però fondamentalmente tramite questi test di solito si diagnostica il Cushing e di solito anche la sede per la sede a volte è anche importante eventualmente fare una diagnostica per immagini avanzata per esempio se si sospetta un Cushing ipofisario una sindrome di Cushing ipofisario perché andiamo a verificare anche le dimensioni di questo microadenoma microadenoma che ovviamente poi col tempo può diventare un macroadenoma e si parla di sindrome da macroadenoma perché i problemi neurologici aumentano si può avere crisi epilettiche si può avere circling si può avere un cane che chiaramente fissa il muro e di solito è legato ovviamente alla crescita di questo tumore che poi va a comprimere altre zone dell'encefalo fondamentalmente la TAC serve anche eventualmente per vedere se ci sono metastasi in caso di carcinoma surrenalico che potrebbe entastatizzare a livello di polmoni e poi anche di solito si valuta attraverso la TAC anche l'invasione del tumore a livello di vena cava caudale che di solito è legato a un tumore che si sviluppa sulla ghiandola surrenale di destra cosa si fa una volta che si è fatta diagnosi di sindrome di Cushing fondamentalmente si utilizzano esistono diciamo diverse terapie in base chiaramente a tanti fattori chiaramente io in questo video non è che cerco di fare caso per caso cerco di spiegarvi a grandi linee un po' la terapia allora a livello medico si utilizza di solito un farmaco che si chiama trilostano che serve fondamentalmente per andare a contrastare l'effetto del cortisolo e quindi ridurre i segni e sintomi della patologia questo si può utilizzare sia se abbiamo un iperadrenocorticismo iatroge, scusate, ipofisario sia se abbiamo un iperadrenocorticismo surrenalico l'altro farmaco che si utilizzava che si utilizza ora meno è il mitotano che è un chemioterapico però tendenzialmente si utilizza più il trilostano dal punto di vista invece di terapie un po' più avanzate abbiamo per esempio la possibilità della radioterapia se abbiamo l'adenoma ipofisario ovviamente si consiglia chiaramente di utilizzarla in base anche alle dimensioni della neoplasia e sempre a livello di ipofisi si può fare un intervento chirurgico la rimozione dell'ipofisi che ovviamente poi comporta una serie di situazioni da gestire perché come vi ho spiegato l'ipofisi regola anche altre ghiandole come per esempio la tiroide quindi rimuovendo l'ipofisi avremo sicuramente un ipotiroidismo come complicanza oltre ad altre complicanze sempre legate alla rimozione dell'ipofisi invece in corso se il tumore è a livello surrenalico non ci sono metastasi non c'è l'invasione della vena cama si può rimuovere la ghiandola surrenalica si consiglia prima di rimuovere la ghiandola surrenalica di fare chiaramente una terapia prima con trilostano però la rimozione della ghiandola soprattutto se il tumore è benigno è consigliata perché va a ridurre completamente la patologia questo diciamo a grandi linee è la sindrome di Cushing è l'ipadrenocorticismo nel cane colpisce anche il gatto ne parleremo in un altro video io spero che questo video vi sia piaciuto se avete le curiosità lasciate sotto questo video nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video